Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sono le 9.33 minuti in questo istante di oggi mercoledì 3 maggio, siamo qui come sempre in diretta per raccontarvi quello che succede a Milano e a Milano ne succedono sempre di tutte, l'avete visto nei nostri giornali le notizie di quest'oggi sono tante e varie ma lasciamo per un attimo le cronache cittadine per parlare di sport, lo sapete spesso e volentieri parliamo di sport minori e come sempre io vi dico ma minori di chi? Beh quest'oggi veramente ci siamo superati, però non possiamo dirlo perché siamo andati a scovare uno sport che è stato inventato in un romanzo, in un libro ma che qualcuno qualche anno fa ha deciso di rendere reale e oggi abbiamo qui gente che ci gioca a questo sport, lo sport è molto conosciuto perché quasi tutti avete visto almeno il film l'allattamento cinematografico di Harry Potter, stiamo parlando di Quidditch e abbiamo qui due giocatori della squadra di Milano di Quidditch, benvenuti, grazie, esistono esistono, partiamo di Jonathan Lionetti e Andrea Oldani dei Milano Mannegins Quidditch esatto, la squadra di Milano ci hai presentati benissimo la squadra di Milano di Quidditch uno sport che come sappiamo tutti appunto nasce dalla mente di J.K. Rowling all'interno di Harry Potter, uno sport ben descritto anche nel senso che proprio è già nel libro ha delle regole, viene presentato in tutto e soprattutto come uno sport vero e proprio ma si sa che insomma anche le lingue dei vari elfi così vengono spiegate nei miei dettagli quindi perché no spiegare anche appunto uno sport beh, qualcuno, poi mi direte chi e quando, ha avuto la malsana oppure sana idea questo poi me lo direte voi di dire ma perché non farlo realmente nonostante ci fossero due o tre cosine che già prudevano dei problemi tipo volare sulla scopa sì potrebbe essere un problema ma abbiamo ovviato anche a quello diciamo che metterlo in pratica proprio nella versione del romanzo non era praticabile perché ovviamente implicava delle regole magiche un po' estreme però le cose di base sono rimaste infatti noi abbiamo le scope che utilizziamo per giocare quindi durante il gioco non voliamo non abbiamo mai la... non abbiamo ancora capito come alzarci in volo però manteniamo sempre la scopa tra le gambe mentre corriamo e questa è una delle regole di base in pratica poi può sembrare una roba molto complessa ma diventa abbastanza semplice anche perché le nostre scope che abbiamo qui davanti sono dei bastoni di PVC ecco no, cerchiamo un attimo su così lo facciamo vedere meglio ecco, la scopa ecco quindi tutto non è una scopa io mi aspettavo che è un lastre con una bella no 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 la piletta no 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 al posto della Nimbus 2000 ci fosse la piletta spazza tutto invece no, avete l'idea della scopa viene riproposta con un tubo di PVC con un tubo di PVC molto leggero in realtà ti posso dire che... che è una specie di handicap fondamentalmente è una specie di handicap perché ovviamente correndo e avendo la palla in mano perché la palla viene sempre lanciata con le mani ovviamente non si possono usare entrambe le mani a meno che ci si fermi e si tenga la scopa ferma tramite le gambe e quindi... no no, ecco quindi appunto voi dovete correre con la scopa tra le gambe che è questo tubo passare la palla tra voi giocatori quella bianca giusto? la pluffa sì i cacciatori usano la pluffa e i battitori e devono andare dentro quel cerchio che avete alle vostre spalle giusto? che sono così bassi o sì? questo è il cerchio più basso in realtà ce ne sono tre per ogni parte del campo di diversa altezza uno medio e uno un po' più alto e valgono punti diversi? no, valgono lo stesso punteggio è solo in base a come sono più come da lanciare ma allora torniamo un attimo indietro allora come nasce lo sport reale del Quidditch? allora come nasce il romanzo lo sappiamo ok? sappiamo che sapeva la fortuna che ha fatto anche della scrittrice e di tutto ciò che è venuto poi e invece com'è che nasce lo sport? lo sport vero e proprio nasce da due pazzi schizzati sanissimi però come dicevi tu prima che nel 2005 se non ricordo male i nomi sono Alexander Manchel e Alex Benepi Alex Benepi tra l'altro è ancora uno dei rappresentanti maggiori a livello mondiale ha studiato ha studiato stamattina ho fatto il ripasso in pratica nel 2005 a livello universitario americano hanno deciso di proporre questo sport nuovo che inizialmente era semplicemente cioè era molto più cosplay di quanto non fosse adesso si giocava con i mantelli con le scope di saggina vere e proprie quindi mutuava completamente tutto quanto dal libro direttamente un pochino un pochino poi sviluppando le regole all'inizio era proprio una cosa alternativa sviluppando le regole hanno cominciato ad applicarlo un pochino di più e poi a quanto ricordo hanno fatto proprio un tour per le università americane si sono presi un periodo hanno cominciato a girare per le università americane cercando di diffondere questo nuovo sport a Tecchito e quindi poi ha cominciato a essere sempre più diffuso tanto che poi ha cominciato a essere giocato in Europa se non sbaglio prima in Gran Bretagna ovviamente perché è la patria di Harry Potter poi in Francia e se non sbaglio noi siamo stati i terzi cioè noi proprio la terza nazione europea e l'Italia è la prima squadra di Milano la prima squadra d'Italia è la Milano-Meregh siamo arrivati prima noi ma siete subito seguiti da tanti altri da quanto sapevo perché insomma è ormai un movimento sì 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 adesso sì adesso siamo ben 18 squadre ufficiali giusto 18 ok siamo ben 18 squadre ufficiali poi qualcuna che piano piano arriverà anche loro all'ufficialità all'ufficialità però sì adesso ai tornei ci si diverte siamo un bel po' siamo un bel po' se non sbaglio tra piccole realtà e squadre ufficiali siamo all'incirca una trentina ah vero sì quindi sono varie squadre mi dicevi appunto queste 18 ufficiali che fanno un vero e proprio campionato italiano con un torneo mi dicevi sì è chiuso in una giornata o due tutti insieme ci si ritrova giusto tra l'altro il prossimo sarà breve a fine maggio sarà fine maggio a Brindisi sono due giorni e sì è il più come si dice nel senso siamo stante squadre non siamo mai stati così tante squadre sì è vero da quando è nato questo sport l'anno scorso eravamo in 8 quest'anno se non sbaglio siamo in 11 o 12 quindi sta crescendo sempre di più ok i Milano o Medeghins come stanno messi in questo momento è un momento di di buona salute oppure come è la buona tradizione delle squadre milanesi anche degli altri sport anche dopo un po' ecco guarda detto francamente come ti dicevo prima la difficoltà di conciliare questo sport soprattutto in una città grande come Milano in cui tutti ovviamente hanno degli impegni sono dislocati magari stanno in provincia eccetera è quello di riuscire a pubblicizzarsi conciliando l'anima un po' più potteriana e quella invece un po' più sportiva ok perché lo sport cioè in realtà il qui dice adesso per come si è sviluppato è un vero e proprio sport quindi magari chi è molto sportivo si avvicina un po' perplesso perché dice ma questi che fanno sicuramente che devo correre con un tubo in mezzo alla gambe esatto esatto quella cosa è lì e invece chi si avvicina con uno spirito un po' più potteriano poi invece si accorge rimane mai deluso perché dice non c'avete i mantelli esatto non facciamo funzioni magiche non vogliamo non c'è più niente devo correre c'è il fiatone non c'è neanche scritto Mione o un grifo un dono da nessuna parte perché deve farlo perché appunto quello che state cercando di fare con tutto il movimento internazionale vi dicevi che c'è una lega un'associazione un'associazione internazionale del quindice quello proprio di fare di fare uno spot vero e proprio nel senso staccarsi un po' dall'idea appunto di cosplayer di Harry Potter anzi dicevate che il campione del mondo americano di quindice non ha mai letto Harry Potter non ha mai visto il film sì 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 all'incirca penso che sia non quello attuale di qualche anno fa il capitano della squadra americana non mi ricordo di quale squadra non ha mai né letto né visto Harry Potter quindi si può venire vincere e divertirsi senza aver letto anzi forse ci si diventa forse anche di più probabilmente no probabilmente non si pensa esatto le scopre le due anime non sono inconciliabili in realtà e moltissime persone che si sono voi chiaro vi siete avvicinati perché ho visto il film anche voi anche però non principalmente però magari c'è anche chi si avvicina per il film e poi invece scopre uno sport meraviglioso un sacco di gente alla mano perché poi è un ambiente bellissimo quindi anche perché è uno sport come si dice gli sport completi il nostro è uno sport completo perché è più sport l'uno entro l'altro alla fine della fiera si si corre con il bastone tra le gambe e una palla in mano un po' come fosse una palla a mano esatto posso e devo fare però gol in tre anelli quasi che mi ricordano un po' più il rugby con i pali alti ma nel frattempo c'è la mia squadra e gente dell'altra squadra che giocano a palla avvelenata dodgeball si perché con il bolide che è questo pallone rosso esatto due giocatori per squadra che sono i battitori devono colpire gli avversari e chi viene colpito deve smontare dalla scopa e quindi è fuori dal gioco tornare sui anelli toccarli a quel punto può rimontare sulla scopa e tornare in gioco quindi si sono più giochi contemporaneamente come dicevate il campo è ovale si a pillola a pillola si definisce si dove ci alleniamo ci alleniamo noi generalmente ci alleniamo a parco l'ambro ok però adesso stiamo cercando di spostarci un po' più in parchi di varie zone per raccattare gente da un po' tutte le parti di Milano e quindi lo sport outdoor sempre o c'è anche una versione indoor un palestra quindi sta sempre all'aperto anche perché autofinanziandoci anche perché quanto è grosso il campo poi non è piccolo ma ci sono 55 per 33 se non sbaglio ha studiato quindi è grandino c'è da correre diciamo si 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 c'è da correre davanti e indietro c'è da correre un bel po' e allora se qualcuno a Milano volesse avvicinarsi al Quidditch come può fare? allora ci può scrivere innanzitutto sulla nostra pagina Facebook Milano Maneghins Quidditch e poi può venire noi ci alleniamo generalmente sempre la domenica dalle 11 alle 15 a Parcolambro nella zona del campo da rugby e quindi ci può ci può scrivere può venire lì semplicemente per assistere per salutarci per vedere per curiosare qualsiasi cosa noi siamo disponibili a tutto e tra l'altro non l'abbiamo detto prima è l'unico sport misto che mi risulta che esiste quindi ci sono stanno rascendo devo dire che negli ultimi degli sport dati dopo il 2000 devo dire questa idea del misto sta prendendo per fortuna mi è da dire è più certe e non siete appunto cito sempre il famoso Chukbol perché noi siamo fan e anzi ricordo che il 14 maggio seguiremo i playoff di Chukbol in diretta streaming con la finale da Solaro del playoff di serie B di Chukbol d'Italia loro fanno le squadre miste e anche sport nati invece come maschili e basta stanno aprendo come ad esempio il football americano flag quindi da parte diciamo per i ragazzini sta aprendo anche la parte più a parte miste quindi stanno facendo squadre miste che insomma per poi in realtà fa anche squadre invece femminili di football americano come le grandissime sirene che abbiamo avuto anche qua ospite noi mi dicevi quindi uno sport anche misto quindi adatto un po' a tutti anche mi viene a dire giusto? e poi la cosa bella del qui dice è che ci sono talmente tanti ruoli non ti abbiamo parlato del boccino tra l'altro e no volevo arrivarci a tenermi in fondo quello però la cosa bella è che ci sono talmente tanti ruoli che uno può trovare il suo posto qualsiasi sia la sua caratteristica sia che sia molto grosso e quindi può placare sia che sia piccolo e quindi può contare sulla velocità prende comunque essendo uno sport americano spunto un po' anche da tantissimi sport anche americani quindi sì 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 dipende un po' dal football americano dal dodgeball le tattiche sono a mio parere molto molto da football americano portatore di palla c'è chi corre quindi passaggio mentre invece il dodgeball è perfetto la perfetta definizione dei battitori a mio parere nel senso che alla fine devono colpire avversarie perché usate proprio la palla da dodge la palla da dodge leggermente sgonfie le usate in modo che sia per facilitare la presa perché avete sempre quell'altra mano occupata a tenere la scopa dulce su in fondo poi c'è il ruolo più che in realtà non c'è per ogni squadra ma c'è uno solo a partita che è il boccino sì vi siete inventati una roba è la parte forse più divertente secondo me anche poi a un certo punto quando entra in campo credo perché insomma sia abbastanza un momento importante della partita tutte le partite al diciassettesimo minuto mi dicevate giusto al diciassettesimo minuto entra in campo il boccino sì ecco che non è un boccino ma è una persona giusto è una persona prego prego spiegami bene come funziona allora il boccino sostanzialmente è appunto questa persona in genere vestita di giallo ma non si sa mai come può entrare in campo si sono visti partite in cui il boccino aveva le ali o calze viola o in qualsiasi modo perché è un personaggio molto molto divertente un po' la parte scenografica esatto esatto e mi ribasta la parte diciamo ludica che però nella parte sportiva perché poi è fondamentale il boccino assolutamente che poi è anche il ruolo probabilmente più famoso quello del cercatore quello che deve acchiappare il boccino perché è il ruolo di Harry Potter esatto il boccino dicevamo appunto è questa persona che ha dei pantaloncini con all'interno del velcro con attaccato un calzino con all'interno una pallina da tennis in genere e il ruolo del cercatore il cercatore deve cercare di appunto acchiappare questo calzino che ha il boccino la difficoltà sta che il boccino non ha la scopa e può avere contatto fisico con il cercatore e salta e va da ogni parte e può andare da ogni parte spesso usate anche dei parkouristi sì in genere sono comunque atleti perché devono correre tantissimo riuscire a scappare a due persone contemporaneamente senza farsi senza farsi prendere e la cosa molto molto divertente a mio parere a me divertiva tantissimo vedere che all'inizio quando lo sport era ancora agli inizi il boccino poteva andare ovunque al di fuori del campo nei primi regolamenti se non sbaglio fino al regolamento 7 il boccino entrava in campo all'inizio facendo una specie di spettacolo infatti ricordo che a un europeo il boccino perché si partiva con gli occhi chiusi proprio per non vedere dove il boccino andasse aveva dei waffle e ha cominciato a metterli in bocca a tutti i giocatori piuttosto spostava le palle quindi quando c'era il broom's up e partivano i giocatori non sapevano più dove fossero i palloni e poi poteva correre per i primi 17 minuti da qualsiasi parte poteva prendere il bus poteva prendere la bicicletta qualsiasi parte dovunque volesse andare infatti si arrampicavano sui caseggiati piuttosto che con grande sbeffeggiamento dei poveri cercatori che stavano dietro invece dal regolamento 8 per semplificare le cose il boccino parte direttamente in campo al 17esimo minuto quindi la parte fuori non c'è più per cui è diventato meno scenografico ed è più un gioco fisico il boccino scappa ma tendenzialmente cerca di bloccare cerca di buttare a terra di rubare la scopa quindi è più una lotta adesso anche se è bella lo stesso infatti immagino e la partita finisce solo esclusivamente quando il boccino viene preso da uno dei due cercatori tant'è che per fare in modo che le partite non durino degli anni a un certo punto vengono inseriti degli handicap al boccino esatto gli handicap al boccino il primo è quello che il boccino come ha detto lui dopo il regolamento 7 può rimanere solamente all'interno del campo il primo handicap è quello che deve rimanere all'interno del campo e non può entrare più nelle aree esatto non può entrare nelle aree di porta il secondo toglie una mano non può più utilizzare una mano come contatto con il cercatore e il terzo handicap e ultimo è quello che non può più utilizzare entrambe le mani quindi alla fine la partita potrebbe anche durare giorni ma nella pratica si cerca di farla esatto esatto penso che di solito la durata massima sia una quarantina di minuti beh 40 minuti senza te senza la pausa adesso nell'ultimo regolamento hanno inserito il time out se non sbaglio ce n'è uno disponibile per squadra però sono 40 minuti in cui correte come dei disperati però è anche vero che i cambi sono illimitati in campo ci sono 7 giocatori avevano il volo la squadra avevano il volo esatto niente quello e solo che noi essendo sempre un po' giusti in pochi esatto e già tanto fa un cambio a volte diciamo che ne abbiamo dall'uno ai due esatto quindi allora ricordiamo bene a questo punto anche per farvi il cambio anche per fare in modo che non stramazziate sul campo durante la prossima partita le coordinate per contattare i Meneghins Milano allora potete scriverci sulla pagina facebook Milano Meneghins Quidditch potete raggiungerci al Parco Lambro nella zona in Viale Giuseppe Marotta dove c'è il campo da rugby e noi siamo lì tutte le domeniche dalle 11 alle 15 se volete però questa settimana sabato 6 maggio siamo al Parco di Trenno sempre nella zona del campo da rugby se non sbaglio la via Cesare Beccaria ma da Trenno comunque sì per un Quidditch Day è comodissimo da San Siro ci si arriva tranquillamente e ci saranno anche le squadre di Bologna e di Brescia per cui faremo un piccolo torneo chi vorrà partecipare chi vorrà provare sarà liberissimo di farlo poi ci sarà un bel po' di gente quindi sarà una bellissima occasione perfetto va bene allora siamo in chiusura il tempo è volato direi che possiamo usare il mio termine in questo caso io vi rinviterò sicuramente anzi voglio venire a vedere una partita perché siamo curiosissimi assolutamente di vedere però devi provare la squadra faccio la teleconaca va bene faccio la teleconaca se volete va bene grazie davvero mille di essere stati qui con noi poi appassato parleremo anche della divisa che sono qualcosa di fantastico questo grosso verde che ricamare questo bianco e rosso che li chiama molto Milano Fanno Veneghino Fanno Veneghino come simbolo quindi davvero davvero complimenti e allora ci vediamo diciamo sabato al parco di trenno Milano Bologna e Brescia quindi un bel triangolare per vedere divertirsi vedere dove finirà il boccino chi se lo prenderà e chi potrà vincere questo torneo va bene grazie mille davvero alla prossima grazie a te grazie a voi grazie a tutti anche voi che ci avete seguito questa mattina dalle sette e mezza in diretta con ossia telegiornale in quest'ultima mezz'ora volando sulle scopre del Quidditch io vi ringrazio tantissimo per averci seguito vi do appuntamento oggi pomeriggio ore 18 con l'edizione della sera dell'informazione quotidiana di Milano All News come sempre largo spazio ai gruppi di cittadini milanesi presenti su Facebook e le loro segnalazioni e poi vi ricordo come tutti i mercoledì questa sera si parla ancora di sport si parla di roller derby si parla di track talk alle 19.30 sempre qui in diretta su Milano All News grazie mille arrivederci a presto a presto a presto a presto a presto Grazie per la visione!